Oggi sono su un tratto particolarmente solitario del cammino di Santiago, in realtà i miei compagni sono tutti attorno a me, dietro c'è Virginia, gli altri Regaz sono avanti, attorno in nulla totale. Stiamo andando verso il prossimo paesino, non sappiamo quando e dove ci fermeremo perché dobbiamo capire com'è la situazione di chi sta male e noi non lasciamo indietro nessuno, quindi se dovessimo fermarci anche al prossimo potremmo fare 9 km oggi e finirla lì. Per passare il tempo ho deciso di fare una cosa che non faccio mai mentre cammino, ovvero filmare, di solito faccio qualche clip ma tante volte ascolto la musica, non prendo neanche in mano il telefono. E Q&A è camminato con le domande che mi avete fatto su Instagram relative a questo mio cammino di Santiago che è ancora in corso. Comincio subito col dirvi che non ho una manica perché di solito il sole ci batte sul lato sinistro, infatti io tengo sempre l'acqua a destra, però stamattina la situazione è invertita e quindi sto cercando di abbronzarmi da questo lato perché ho un'abbronzatura, molti definiscono da muratore, da cantiere, in realtà è molto peggio. Comunque non c'è nulla, non passa neanche una macchina e al di fuori del mio parlato il silenzio è assoluto, ogni tanto però passano dei topolini che mi attraversano il sentiero. Partirei con la domanda più gettonata che è l'aggiornamento mutande, allora le sto indossando, sono pulite, quando ho l'opportunità di lavarne visto che ne ho soltanto due paia me le metto, altrimenti cammino senza e si cammina bene uguale, senza è molto fresco. Daniel mi chiede com'è il rapporto tra pellegrini, se c'è molta solidarietà o ci sono anche dei maleducati. Allora ci sono dei maleducati, ieri abbiamo incontrato un gruppo che non era particolarmente simpatico e c'è anche un altro ragazzo che ci segue che si è comportato in maniera un po' maleducata sia con me che con un'altra ragazza del mio gruppo, però generalmente a me non me ne frega nulla ma soprattutto cerco di essere solidale con tutti, soprattutto quando c'è da dare una mano, non mi costa assolutamente niente fermarmi un secondo quando vedo una persona in difficoltà e chiedergli se vuole un goccio d'acqua o ha bisogno d'aiuto, finora sempre tutto bene e in generale sì, si respira un clima bellissimo con tanta tanta solidarietà. Poi mi chiedono se mi piacerebbe fare un viaggio in bicicletta o il cammino in bicicletta, allora ci ho pensato, però allo stesso tempo credo che farsi il cammino in bicicletta non si sposi molto con quello che è il mio stile però voglio provare, cioè nel senso io un po' di tempo fa, tipo qualche settimana fa, oddio non so quanto tempo è passato quando sono partito, ho perso la condizione del tempo, comunque avevo chiesto a Elio zio ma ci sistemiamo le bici, ci facciamo un viaggetto in bicicletta una volta, è una cosa che voglio provare a fare sono illuminato dalla luce divina, in quanti mollano durante il cammino? mi avete chiesto allora io per ora non ho visto nessuno che mollava per la fatica, per i dolori quando vedo qualcuno che mi dice io ho una certa torna a casa è sempre per questioni logistiche ci sono persone che fanno un pezzo in base alle fere che hanno e poi tornano a casa oppure che partono da un punto piuttosto che un altro perché mi hanno già fatto un tratto prima l'anno precedente eccetera eccetera cioè non ho ancora visto qualcuno che molla perché non ce la fa più ma ho visto persone che hanno un cammino limitato il mio è illimitato per questioni prettamente personali, lavorative ho visto un ragazzo francese che è dovuto tornare a casa, non ho indagato ma mi pare di capire che avesse dei problemi guardate che figo, sono tutte le frecce per terra fatte con i sassi e gli altri sono là avanti poi mi chiedete non litigate mai? no, sempre tutto tranquillo poi io anche se c'è qualcuno che vuole fare meno chilometri o più chilometri, alzarsi prima, alzarsi dopo non mi faccio problemi non ho minimamente difficoltà ad adeguarmi alle esigenze del resto del gruppo mi piace tanto camminare assieme, mi sto godendo ogni singolo giorno qui sul cammino non c'è un momento in cui dico che palle, è sempre tutto fantastico lo so che è brutto far passare questo messaggio perché non dovrebbe essere sempre tutto fantastico però le difficoltà le affrontiamo assieme, i momenti di disagio li affrontiamo col sorriso e va tutto bene raga, cioè se non sei felice sul cammino di Santiago mi chiedono se secondo noi è ugualmente bella l'esperienza anche fatta in solitaria secondo me è bella se hai una forte motivazione altrimenti stare in gruppo comunque non ti limita a non fare conoscenza con altre persone quindi io mi sento comunque di essere partito da solo ma di aver trovato tanta gente se volete l'argomento partire da soli o partire in gruppo lo approfondiamo in un altro video perché è una delle cose che mi chiedete più spesso mi chiedono se anche a me usando le bacchette da trekking hanno iniziato a fare male i gomiti no, però c'è tipo qua sotto, un pochino lo sento le bacchette, visto che anche quella è una domanda che mi fanno spesso a cosa servono e fanno una differenza servono secondo me a camminare meglio e a limitare i dolori fanno una differenza? Assolutamente sì però tipo come vedete adesso non le sto usando perché ogni tanto non mi va e quindi le piego e me le metto nello zaino dopo mi sa che una sdronata la faccio anch'io proprio avanti i posti sono veramente fighissimi visti dall'alto voi mi chiedete se per il cammino consiglio prodotti Amazon o Decathlon o più in generale cosa vi consiglio allora io vi farò vedere qual è la mia attrezzatura a livello di zaino cosa ho nello zaino, marsupio, cosa ho nel marsupio e soprattutto abbigliamento però non è che vi consiglio di andare per forza a Decathlon o prendere tutto su Amazon vi consiglio di informarvi bene e provare le cose perché se prendete un altro topolino se prendete qualcosa che poi non è giusto per voi la dovete portare dietro per un mese oppure lasciarla da qualche parte e doverla trovare lungo il cammino una cosa che mi hanno detto in... ah ma poi farò anche il video sui... ah si vede il paese farò anche il video sui falsi miti sul cammino di Santiago perché mi hanno detto un sacco di cose che poi in realtà non sono vere è un paesino qua e uno là adesso in base a come stanno le ragazze no quello non so se è un paesino, vabbè comunque in base a come stanno le ragazze decidiamo dove fermarci e nel frattempo dietro stanno cantando allora pubblicherai un video sul primo canale relativo al cammino di Santiago l'intenzione è quella bisogna vedere se riesco a farne uno fatto bene che non voglio mettere video solo perché ho fatto il cammino di Santiago se viene un video veramente figo ce lo metto perché su Human Safari voglio mettere solo video veramente tanto fighi stai riuscendo ad evitare gli spoiler su Game of Thrones oppure sei riuscito a vederlo? sono riuscito a vederlo, me lo sono guardato tutto e come molti sono rimasto molto deluso dal finale poi mi chiedete come fare se uno ha solo una settimana a disposizione, è possibile spezzarlo, quale pezzo consigli? a me è piaciuta molto la prima parte e mi piacerebbe anche trattare l'argomento in maniera più approfondita se vi interessa perché sono sicuro che molte persone non hanno normalmente con il loro lavoro a disposizione più di un mese, comunque un mesetto per finirsi tutto il cammino in una volta sola da quanti giorni siamo in viaggio? probabilmente 17 o più o meno e l'aereo è meglio prenotarlo oppure vedere? allora nessuno di noi tranne Virginia ha l'aereo prenotato per il ritorno e io sono molto più sereno così però se avete delle tempistiche prestabilite è meglio prenotarlo prima per risparmiare qualche soldo rispetto a chi come me lo prenderà all'ultimo quando e dove prossimo viaggio? allora questa è una domanda strana perché faccio fatica a pensare al futuro dopo questo cammino perché mi sto veramente tanto vivendo questo presente ed è una figata prossimi viaggi ce ne ho di programmati perché comunque viaggi con gli iscritti che non posso annullare farò quello in Norvegia quest'estate che potrebbe essere il prossimo anche se prima devo andare in Puglia comunque vi terrò aggiornati e poi c'è il viaggio con gli iscritti alla Hawaii e c'è anche il viaggio con gli iscritti in Islanda dove tra l'altro c'è ancora posto e se mi ricordo ve lo linko qua sotto e dovrei avere anche due posti per i viaggi in Giappone che invece farò ad ottobre quello figo dove dormiamo nelle fattorie e boh prossimi viaggi cioè questo è il prossimo viaggio non lo so come spiegarlo ma è un'esperienza talmente importante talmente intensa che mangia via tutto il resto e nel frattempo stiamo arrivando al paesino abbiamo anche raggiunto Luca che era un po' avanti cosa pensi mentre cammini? cosa in questo momento è perché è proprio al cibo bella questa cosa penso mentre cammino? non lo so perché a me piace quando camminiamo sia stare in compagnia sia rimanere un po' indietro stare un po' in avanti per camminare in solitaria e stare con i miei pensieri è una cosa che penso faccia molto bene perché a casa non è che con tutte le cose che hai da fare hai molto tempo di rimanere lì a meditare e cosa penso? penso a quanto... non lo so non voglio andare troppo sul filosofico perché questa è un'esperienza che mi sento molto personale che sento molto mia? molto personale aiuto! pensi che questo cammino ti cambierà? assolutamente sì bisogna vedere se è meglio o in peggio ma credo in meglio sento che sto crescendo molto le digos ah guarda 373 ehm chilometri 73 mila? no 373 chilometri a Santiago il cammino è sicuramente una grande esperienza a livello di crescita e cioè può regalare tanto mi sta regalando tanto come ha detto il nostro amico texano molte persone vengono qui quando c'è un cambio di stagione nella loro vita pensateci un po' perché mi è piaciuta tanto questa frase la sento molto coerente con quello che stiamo vivendo uh la chiesa guardate che bella gli altri mi sa che si sono fermati al baretigno gli alberghi costano poco quanto costa fare la spesa allora gli alberghi costano 5-10 euro a seconda di dove vai municipali, parrocchiali o privati noi non ci facciamo problemi con i soldi ma andiamo di solito nelle sistemazioni dove c'è la cucina perché ci piace fare la spesa e cucinarci da soli la roba la spesa non mi sembra che costi di più dell'Italia almeno rispetto a quando vado io a fare la spesa in Italia il massimo che abbiamo pagato è 57 euro per sfamare anche fino a 15 persone e farci colazione, pranzo e cena quindi capite che non è male perché poi dividiamo sempre per 5-6 e conviene piuttosto che il menù del pellegrino fate la spesa e cucinate quindi meglio investire su alberghi che hanno la cucina così vi preparate le vostre cose e siete sicuri che mangiate bene il cammino costa poco visto la popolarità è diventato costoso mi sembra che tutto costi abbastanza poco ovviamente c'è chi se ne approfitta bisogna soltanto fabbala l'ecce e stare attenti a non prendere delle brutte fregature come noi ieri sera com'è camminare da soli? secondo me è molto interessante a volte è necessario io tutte le mattine faccio qualche chilometro in solitaria perché è bello stare con se stessi molto formativo e fa bene penso che faccia bene ti fa anche apprezzare di più la compagnia poi quando vai a raggiungere i tuoi compagni di viaggio quanto tempo prima consigli di iniziare a programmarsi il percorso? allora io sinceramente non mi sono programmato nulla e consiglio di fare altrettanto a meno che non abbiate delle tempistiche molto strette in quel caso scegliete bene dove partire e magari da dove arrivare però se potete partite basta e basatevi su ciò che il cammino è in serbo per voi per evolvere il vostro pellegrinaggio consiglio mio ogni quanti chilometri facciamo una pausa? dipende a volte facciamo una pausa al primo paese per fare colazione a volte abbiamo voglia di fermarci al bar e ci fermiamo se non abbiamo fretta camminiamo qualche chilometro e poi stiamo fermi ci facciamo un bel pranzetto oppure se magari vediamo che inizia a far caldo tiriamo e diciamo ok raga l'ultimo pezzo lo facciamo tutto filato dipende non siamo qua per motivi atletici quindi non vogliamo fare un sacco di chilometri tutti di fila per metterci alla prova tutto in maniera super tranquilla altra domanda super frequente come mai non camminate nel pomeriggio? allora noi di solito camminiamo la mattina pomeriggio ci fermiamo e ci rilassiamo perché altrimenti passi tutta la giornata a camminare sinceramente non ci va nel momento in cui vorremmo fare una giornata intera a camminare 60 chilometri la faremo però ora come ora preferiamo camminare soltanto la mattina anche perché nelle ore più calde della giornata è meglio non stare sotto il sole cocente della Spagna perché potresti beccarti come niente un'insolazione e per ricollegarmi anche alla domanda che mi avete fatto quanti chilometri giornalieri allora ci sono delle tappe segnate sulle guide noi in base a come ci sentiamo decidiamo quanti chilometri fare il massimo che abbiamo fatto credo fosse 32-34 c'è chi ne fa 40 ho incontrato un signore che mi diceva ne ho fatti 60 cioè non ce la sentiamo non siamo qua per fare un trekking e metterci alla prova capito? e per chi mi ha chiesto ti sei mai sentito? cioè hai mai pensato di aver superato i tuoi limiti? mai non ho mai fatto il passo più lungo della gamba se vedo che non ce la faccio mi fermo perché ci si può far male e non è bello perché se ti fai male seriamente il cammino finisce qua oggi comunque stiamo incontrando un sacco di gente in bicicletta cioè molta più del solito e non so perché concludo con un aggiornamento siamo a due giorni di cammino da Leon e stiamo da Dio è una figata buona serata a tutti ragazzi siete felici di fare il cammino di Santiago? madonna raga siete felici di fare il cammino di Santiago? felicissimi sei felice Virgi che sei di nuovo sana? si sta morendo in realtà rip Virgi